BOOM! Marcello, è ora di andare a letto! Va bene mamma, vado a letto! Mamma, mamma, aiuto! C'è un mostro accanto al letto! Ma certo che c'è un mostro accanto al letto! Siamo una famiglia di mostri! Io sono un mostro! Tuo padre è un mostro! Tuo fratello è un mostro! E tu sei un mostro!